Orestis, una partita in cui hai dovuto fare poco o nulla, una partita bloccata, lo 0-0 è rimasto tale? Sì, tutte e due le squadre come primo pensiero avevano di non prendere gol. Quindi durante i 90 minuti qualche occasione potevamo creare. Abbiamo creato 3-4 occasioni portanti, non avevamo la fortuna di segnare un gol, quindi è arrivato questo pareggio. E' un punto, sicuramente poteva essere meglio, però anche un punto ci stava bene. Ha detto De Canio che questa era la più difficile di tutta la settimana, adesso arrivano Fiorentina, Inter, due squadroni, le motivazioni vengono maggiori in queste partite magari? Io penso che tutte le partite in questo momento dobbiamo affrontare con lo stesso modo di fare punti, come abbiamo fatto con Napoli, che nessuno aspettava che possiamo vincere. Abbiamo fatto una grande partita, quindi in questo momento non si può scegliere le squadre o le partite che può vincere. E' un momento di fare punti con chiunque. Poi c'è stata anche questa coda nervosa nel finale con l'espulsione di Felipe, poi l'espulsione di Maggiorini. Come avete vissuto il rosso a Felipe? Non so se vi ha detto nei spogliatoi che ha chiesto scusa per il gesto. Sicuramente di giocare contro con Diezzi. Era un partita che eravamo chiusi. Tutte e due le squadre avevano una piccola paura di prendere gol, quindi per questo eravamo anche noi un po' indietro. Ma non è rimasto anche loro con Diezzi dopo. Era una partita che poteva finire, chi poteva segnare un gol poteva vincere. Quindi questo pareggio alla fine sembra di essere giusto. L'ultima, Garnedzis. L'unica vera brutta notizia della giornata è anche la vittoria del Frosinone. Però comunque voi non guardate le altre o questa vittoria magari meglio che non ci voleva? Sicuramente quando ci fanno un regalo lo prendiamo. Però dobbiamo avere carattere e coraggio di guardare solo il nostro lavoro. Poi se arriva qualche regalo, come ha detto, va bene. Però la salvezza è le nostre mani. Grazie.